Ciao ragazzi, bentornati sul canale d'MCA, mondo carriero allenatore, io sono sempre Andre e oggi ragazzi continuiamo la nostra serie con i nuovi possibili talenti che potranno essere aggiunti su Fio22 e invece quelli che proprio sono stati aggiunti, quindi che potremo utilizzare già da oggi, appena guardate questo video, se non ancora non lo sapete, accendete la play, nuova carriera, tac, vi trovate questi nuovi giocatori. Sono tantissimi i possibili ma soprattutto anche quelli inseriti e tutti veramente molto forti, qualcuno più interessante di altri, qualcuno già più pronto rispetto ad altri, però direi che senza perdere altro tempo, direi proprio così, di iniziare con un nuovo possibile talento aggiunto che è Xhaka Traore, talento del Milan classe 2004 che perché pensiamo che potrebbe essere aggiunto? Perché ragazzi ha già debuttato in Serie A, però ragazzi ha compiuto i 17 anni e quindi forse potrebbe anche essere già inserito, non lo so. Comunque giocatore alla sinistra, interessantissima, 61 di overall con 82 di potenziale, quindi comunque ha, pensiamo che abbia veramente un bassettino overall però con un buonissimo potenziale, 90 velocità, 75 tiro, 78 passaggio, 84 dribbling, 70 fisico. Insomma queste sono le caratteristiche che noi ci immaginiamo, però ragazzi potrebbe essere veramente interessante, è un giocatore che come tutti, diciamo i giocatori come abbiamo visto anche nella top 10 Africa, è un giocatore molto bravo nel dribbling, molto bravo con palla al piede, nella velocità, che però davanti alla porta deve ancora dimostrare tanto perché come abbastanza tutti questi tipi di giocatori creano tanto, driblano, fanno un sacco di occasioni, però poi quelle che concretizzano sono poche. Chissà che questo Ciacca Traorei possa essere inserito su FIFA 22. Secondo giocatore che potrebbe essere aggiunto su FIFA 22, stavolta passiamo dall'altra parte, non in Italia ma in Inghilterra e andiamo a Liverpool, in casa di Liverpool con Musialovski, questo giocatore occhio perché potrebbe essere una bestia. Nuovo giocatore del vivaio dei Reds, si è allenato con la prima squadra ma non ha mai debuttato, però ha un contratto professionistico da quest'estate, quindi tutto potrebbe essere come niente. Però ragazzi ci immaginiamo un polacco, anche lui alla sinistra, insomma, 64 di overall, di base, con 86 di potenziale, anche se potrebbe sembrare un po' tantino. Insomma, noi abbiamo ipotizzato una tanzia di potenziale, però magari forse un po' troppo, insomma è un giocatore che va scoperto ancora assolutamente. Sappiamo sicuramente che anche lui, tanto ma tanto veloce, un talento nel dribbling incredibile, salta veramente tutti, doti fisiche che ci siamo così così, sicuramente a livello di passaggio e tiro è veramente un giocatore straordinario. Infatti, 91 velocità, 81 tiro, 78 passaggio, 90 dribbling, 38 difesa e 70 di fisico. Come sempre, anzi in questo caso, l'86 appunto di potenziale potrebbe essere un po' così così, però ragazzi è tutto da scoprire, quindi non vedremo l'ora, speriamo. Altro nuovo possibile talento che potrebbe essere inserito all'interno di FIU22, ragazzi, è Van Axel Dongen. Amoriccio, per essere precisi, questo ragazzo, un altro alla sinistra tra l'altro, è stato eletto talento dell'anno del The Tokemost. E ragazzi, qui ragazzi, cos'è il Tokemost? Perché magari non tutti lo sanno, è il centro sportivo delle giovanili dell'Ajax, fra le migliori accademie del mondo. Quindi ragazzi, comunque sappiamo già che l'Ajax produce giocatori, giovani, talenti, sempre, comunque, tutti gli anni, con una costanza incredibile. È un settore giovanile incredibile e in più, ragazzi, questo giocatore è stato eletto come il migliore tra tutti questi. Cioè, ragazzi, è una roba assurda. Per capirci meglio, questo premio, in passato, è finito nelle mani di De Ligt, Raphael Van der Waart, Wesley Sneijder e Christian Eriksen. Allora, ragazzi, cioè, qua c'è veramente poco da dire, nel senso che questo premio l'hanno preso giocatori che, ad oggi, sono tutti state delle leggende, o sono, come De Ligt, insomma, dei giocatori che potrebbero diventarlo. Quindi, ragazzi, è un risultato importante, sicuramente, per questo 17enne, che ha le prime apparizioni con i grandi nella B olandese con l'Under 21 dei lanceri. Quindi, sta facendo benissimo, sta facendo veramente bene. Attendiamo, chiaramente, con ansia, il debutto in prima squadra, così che poi, zack, può essere inserito all'interno di F22. È anche lui un alla sinistra devastante, ragazzi, con un 62 di overall, ma un 83 di potenziale, con una velocità, ragazzi, devastante, veramente devastante. Ottimo dribbling, buon tiro, anche se, come lui, come Traore del Milan, abbiamo un po' lo stesso problemino, però, ragazzi, a livello fisico, talento tecnico incredibile e velocità, insomma, da pazzi. Un talento, invece, che è già stato aggiunto all'interno del gioco, ufficiale, potrete già utilizzarlo se non l'avete già fatto, ragazzi, è Noah Mbamba. Mbamba, giocatore del club Bruges, 88 di potenziale da 64 di overall. Non credo ci sia molto altro da dire. Insomma, un difensore centrale che può fare anche il mediano, all'evenienza, con 87 di velocità, 85 difesa, 89 fisico, 87 dribbling e 75 di passaggio. Chiaramente, il tiro non è uno dei migliori, però è un difensore centrale che può fare il mediano. È 1,88 a 16 anni. Cioè, ragazzi, questo a 16 anni è d'alto 1,88, una roba devastante. 3 di piede debole, 2 massabilità, insomma, ha tutte le carte regola, a mio parere, per essere veramente un giocatore straordinario. Poi, arriva dal club Bruges, ha di 16 anni, appena stato aggiunto, cioè non costa neanche tanto, costa veramente pochissimo. Provarlo, secondo me, non costa nulla, anzi, è soltanto un beneficio, assolutamente. Altro talento aggiunto definitivamente che potrete utilizzare tranquillamente nelle vostre categorie di FIFA 22 è un giocatore del Benfica, ragazzi, Thomas Arauco. Difensore centrale anche lui, però completamente, a mio parere, diverso da Mbamba che abbiamo visto prima. Perché lui è un giocatore sicuramente difensore puro, innanzitutto, non può fare il mediano. È molto alto anche lui, perché è a 1,87 di altezza, però, ragazzi, ha un 65 di overall con un 81 di potenziale. Rispetto al 64 e l'88 di potenziale, insomma, hanno due prospettive sicuramente molto, molto differenti. Lui sicuramente molto meno fisico, però ha un 80 di velocità, un 82 di difesa. Quindi, a livello di velocità e di difesa, ci siamo 79 di fisico, 60 di passaggio. Direi che tra i due c'è una differenza abissale, soprattutto anche a livello tecnico. E, insomma, chi vuole difessori tecnici sicuramente non fa proprio al caso loro questo giocatore. Altro talento super aggiunto che è veramente devastante il brasiliano, Wanderson. Mamma mia, ragazzi, lui è veramente devastante. Io l'ho provato. Questo vi dico che è veramente forte, giocatore del Monaco, RB, quindi terzino, destro, right, back, 80 di potenziale da 69 di overall. 88 di velocità scatto, 75 di difesa, 78 fisico, 83 dribbling e 76 di passaggio. Ragazzi, lui è un piccolo Dani Alves in miniatura, però ancora più veloce, ragazzi. È un 80, quindi miniatura nel senso di carriera, livello di carriera, però, ragazzi, è un 80, quindi non è assolutamente basso. 3-3, possibilità e piedebole. Un giocatore comunque di 20 anni non è proprio giovanissimo, però sicuramente c'è tanto da far con lui. Si può migliorare ancora, tra l'altro perché è un giocatore che non è affatto finito e, secondo me, ragazzi, può essere una chicca al bacio per le vostre carriere. Anche un po' esotica, brasiliana, sudamericana, perché no? E ultimo giocatore, ragazzi, ho deciso di tenerlo per ultimo, questo giocatore, perché credo sia uno dei migliori, dei prospetti migliori che ci sono al momento a livello di calcio brasiliano. Stiamo parlando di Mateus Nascimento, ragazzi. Chi non conosce questo ragazzo? Lui, come con Kaiki, che quando ancora giocava in Brasile già lo proponevamo in questi video, perché poi, tra l'altro, è andato a Manchester City, vogliamo cercare di portare un po' di fortuna anche a Mateus Nascimento. Un giocatore, comunque, che è uno dei migliori talenti attualmente del campionato brasiliano, moltissimi club su di lui. Insomma, innanzitutto, speriamo che il campionato brasiliano, almeno in FIFA 23, sia licenziato. In senso che ci sarà e potremo utilizzare questi giocatori senza sperare e aspettare che arrivino in Europa o almeno, comunque, nelle squadre che hanno la licenza di eSports. Però, ragazzi, speriamo che questo nascimento, che ipotizziamo con un 64 di overall e un 85 di potenziale, con delle statistiche di 88 velocità, 83 tiri, 86 dribbling, 77 passaggio, 78 fisico. Mamma mia, ragazzi, non vedo l'ora. Spero con tutto il cuore, veramente, che questo giocatore arrivi nel calcio, diciamo, almeno con le licenze di eSports per usarlo, perché, ragazzi, lui potrebbe essere veramente la svolta. Veramente la svolta, è un giocatore fantastico. Quindi, ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo video. Spero che l'abbate trovato interessante. Commentate, ragazzi, se vorreste un altro video di questo tipo e soprattutto quale tra questi giocatori sperate, tipo questo nascimento, che arrivino su FIFA 22 o su FIFA 23 o quale di quelle che ci già sono presenti, quali proverete. Iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace, attivate la campanella e noi ci sentiamo al prossimo video. Ciao, ragazzi.